Fornelli con Renzo Andolfatto, chef titolare del ristorante Il Sentiero dei Franchi a Sant'Antonino di Susa. Allora, presentaci un po' questi piatti che io ho già introdotto. Ma io ho voluto portare questi, adesso sono stati messi assieme, sono considerati due secondi, però la cucina ricca piemontese, comprende diversi antipasti, molte volte anche questo tipo di portata, diciamo con delle cipolle leggermente più piccole, un capunet, sono involtini di foglie di cavolo verza, anche un po' più piccolini, possono anche essere serviti. Possono anche essere delle antre, come dicono i francesi, gli antipasti. Degli antipasti caldi. Ma adesso in questo periodo qui ho voluto, è un piatto tipicamente diciamo anche autunnale, perché è piuttosto ricco. Ricco, calorico. Calorico. Adesso si va verso l'estate, quindi con delle portate più leggere, no? Però è servito anche adesso, è un piatto che può essere servito diciamo tutto l'anno. Cioè l'odore c'è, è veramente buono. Ma il capunet, cos'è esattamente capunet? Il capunet... Questa è verdura, no? L'hai detto tu. Sì, ma è un piatto tradizionale, popolare, caratteristico di diverse, nelle diverse anche valli piemontesi e anche fuori valle. In altri posti si chiama in maniera diversa? Magari chiamano, addirittura da noi in Val di Susa, molti capunet non conoscono come capunet, lo chiamano o il pesco oi, la trutat coi. La trutat coi? La trutat coi. Che cosa vuol dire il tradotto? Ecco, trutat coi, lo puoi vedere anche su quella... Ah, sì, sì, perché poi Renzo ci ha portato un bellissimo libro di ricette della tradizione valsusina. Curata dall'Unitré... L'Università della Terza Età. L'Università della Terza Età di Sant'Antonino di Susa, ha fatto una ricerca bellissima. Poi c'è l'Associazione Cuochi di Torino, insomma. E dentro ci sono... Dentro ci sono, guarda quante cose. Ci sono proprio anche scritte i piemontesi. Ma hai scritto tutto... Ah, no, no, la pubblicazione è bellissima. Sì, allora, il... È bello perché c'è Roladine Tripa e poi ovviamente c'è anche la traduzione in italiano, in questo caso sono gli involtini di Tripa. È veramente bello. Quello sì, è bello. Nel tuo ristorante quanto conta la tradizione? Ma diciamo è stata proprio la base della mia cucina, è quella di stare nella tradizione. Proprio piatti classici che venivano serviti, io mi ricordo quando ero piccolo, già negli anni... E poi con la nouvelle cuisine, con tutto rispetto, perché non voglio... E con piatti rivisitati sono stati un po', diciamo, abbandonati. Io invece da quando ho aperto il ristorante mi sono sempre proposto di rimanere proprio nella tradizione. Quello che io ho vissuto da fanciullo, da quello che invece ho sentito... Cioè quello che tu hai mangiato adesso lo fai mangiare... Sì, continuo, diciamo, con questa tradizione. Con classe, con tradizione, lo fai mangiare ai tuoi clienti. Esatto. Ma ci sono dei nomi fantastici. Allora intanto vediamo un po', ecco questo è il libro, vediamo un po' di fotografie tratte dal sito del ristorante ilsentierodeifranch.com. Innanzitutto, il Sentiero dei Franchi, perché lì passava veramente un Sentiero dei Franchi? Ma il Sentiero dei Franchi è un... negli anni 80, nel 1980 è stato aperto questo sentiero che all'inizio voleva chiamarsi il Sentiero dei Frati. Ah, dei Frati. Dei Frati, inteso che dalla parte sempre orografica destra della Dora Riparia abbiamo la Sacra di San Michele e abbiamo le diverse abbazie certose. La Certosa di Banda, la Certosa di Monte Benedetto, la Certosa Sopra Susa, adesso mi sfugge... L'Ovalesa, sì ce ne sono tante, insomma i Frati ci sono. Ecco, quindi erano la Certosa della Madonna della Losa. Grazie a tutti.